musica e bella a tutti ragazzi qui è Bazzu che vi parla e oggi siamo in un nuovo video con Sonic Dash Dash boh Dash quello della lavastoviglie sta musica fa un casino bestiale sta roba ok non so cosa stia facendo gioca corri per 1800 metri ah che cos'era stai sulla corsia in mezzo al massimo salta non posso saltare ma com'è che si saltava ah col su 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 vai 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 sono diventato un genio salta cioè capite che devo utilizzare sia il mouse che le frecce aspettate adesso perchè fa l'acrobata no sto giocarendo ah ho sbagliato ragazzi non sto capendo niente di sto gioco è difficile difficile ok Edman sei finito mh no sono morto nooo avanti voi avete capito qualcosa per l'amor ah le mie orecchie non c'è un menu non c'è un musico disattivato se no così diventi pazzo completo non capisci più un fico secco di niente oh ma non c'era una via di mezzo vabbè sembra che non esiste abbasso 1 2 1 per intenderci è tipo il gioco della nonnetta pazza però potente cioè bel gioco però sì lo preferirei forse sul telefono giù là 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 nooo ho sbagliato cioè se lo facevo giusto non cadeva però poco realistico non ho capito cosa dovrei fare cos'è questo ma cos'è ti bicchierò come un tambor ma quello è pacman schiva le stelle ma quali stelle oddio ma cosa si sta facendo ma cosa ridi cos'è musica c'è un gioco da pazzi ma è un gioco da pazzi niente premio del giorno buongiorno che ci gioca ah ho ricevuto due stelle rosse se voi avete capito qualcosa di più di quello che io sto facendo adesso ditemelo nei commenti gradirò la vostra la vostra la vostra sapienza sarà gradita che cosa ho fatto no 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 era di là questo gioco ti fa rintronire il cervello scusate ma una domanda che mi sono sempre fatto ma quando fa così Sonic non le gira la testa no 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 scusate credo che sia quasi caduta la video camera però niente no voi di quest'ultima cosa ci avete capito qualcosa io no trovarne uno in più tempo rimanente sei ore perchè secondo voi io starei qua sei ore a giocare a questo gioco 10 minuti dopo starò 150 ore è un gioco da smartphone cioè non da computer ditemi voi se vi piace come grafica non posso dire niente è anche bella è fatto bene è fatto bene se guardate anche qua comunque è una bella grafica però sì è bello è sempre sonic sempre così non funziona più non funziona più cosa sono le sfere del drago di dragon ball non lo so più non lo so più bello questo gioco è bellissimo cioè no è bello perchè anche la grafica tipo qua c'è il muschio qua è fatto bene è fatto bene devo ammetterlo ha una grafica che è migliore di quella di minecraft di sicuro però già stiamo parlando di un gioco a cubi niente è il primo c'è niente usciranno altri ditemi se vi piacciono i giochi così perchè questo qua è un è simile alla nonetta pazza alla fine alla vecchietta vecchietta pazza che era corso fuori dall'ospedale se non ve lo ricordate non l'avete visto vi metto il link sotto in descrizione così lo vedete e per questo gameplay può essere tutto e ciao